nuovo unboxing lo stava prendo qua pepepepe per fargli vedere che cos'è a pepepe che cos'è ragazzi ragazzi che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è vabbè scemo non discutare praticamente è cosa il termometro per i pesci pepepe i pesci qui si mette la nostra batteria stiamo facendo ragazzino il fantacaccio è la prima volta che lo faccio in tutta la mia vita anche pepe io sono il più scasso di tutti ragazzi questo si metterà dentro l'acquario e vision vi misurerà la temperatura del vostro acquario l'acquario lì vedete non si sente più con i nuovi dopo 37 euro di di areatore non si sente più rumore ci vediamo noi in un prossimo video bella ragazza